Guardando il Sistema Solare, vi è mai capitato di chiedervi come mai i pianeti sono misteriosamente e sospettosamente tutti quanti sullo stesso piano? Chi c'è dietro questo? Chi li ha arrangiati perfettamente così? Perché non c'è un pianeta che orbita intorno ai polli del Sole, oppure uno molto inclinato? Come mai sono tutti quanti perfettamente inclinati? Ah ah! C'è qualcosa dietro, giusto? E perché alla fine sono tutti quanti pronti per allinearsi perfettamente e quando succede... Non lo so, per molti di voi che sono più giovani questa cosa non avrà senso, ma chi si ricorda gli anni 90 si ricorderà che a un certo punto, arrivando al 1999, c'era questo complotto dell'allineamento dei pianeti. E quando i pianeti si sarebbero perfettamente allineati, non so, sarebbe, boh, capitato qualcosa, le rane avrebbero iniziato a cantare e, boh, non lo so, qualcosa di strano. Di solito tutte le previsioni portano a morte e distruzione, invece mi piace pensare che ogni tanto succeda qualcosa di simile all'Antico Testamento. Erano più creativi, no? Piovevano rane, succedevano cose più divertenti, invece no. Boh, sarebbe bello una previsione in cui i pianeti si allineano e tutti i fossili dei musei tornano vivi. Toh! Almeno quello, se non altro, sarebbe divertente da riportare. Ma lasciando da parte i complotti, il motivo per cui tutti i pianeti sono allineati è che in realtà si sono formati insieme da un disco che girava intorno al Sole. E quel disco si è formato da una nebulosa più grande che girava molto piano intorno al proprio asse di equilibrio ed è al centro di quella nube che si sono formate le stelle, tra cui il Sole. E quando il Sole è collassato verso l'interno, portandosi dietro parte di quella polvere e gas, girando sempre più velocemente, ha portato ad appiattirsi. Quindi questo gas si è appiattito verso il centro per via delle continue collisioni. È un po' lo stesso principio che porta una pizza, quando la fate girare sempre più velocemente, ad appiattirsi e allungarsi. Quindi fondamentalmente è lo stesso principio. E dato che i pianeti si sono formati da nubi di gas e polvere che orbitavano intorno al Sole, beh, ecco perché sono finiti tutti quanti lungo l'equatore del Sole. Ma in realtà, se siete abbastanza attenti, quando guardate l'inclinazione dell'orbita di vari pianeti, noterete che non sono davvero tutti perfettamente allineati. Mercurio, per esempio, ha una delle inclinazioni più alte rispetto a questo piano immaginario del Sistema Solare. Quindi, in realtà, le differenze ci sono, solo che non si notano facilmente quando vedete le illustrazioni del Sistema Solare, sono tutti messi uno accanto all'altro. Ma non sono perfettamente uno accanto all'altro. E inoltre, questo è uno dei motivi per cui non potremo mai avere un perfetto allineamento di tutti i pianeti. Quindi quello non succederà. Può essere che alcuni siano, magari può capitare di avere tutti i pianeti da una parte del Sistema Solare, si aspetti abbastanza, ma non ci sono alcun tipo di allineamenti. E se anche ci fossero, non succederebbe niente. Sorpresa, sorpresa, non ha alcun tipo di influenza sui singoli pianeti. Quindi non è che, a meno che non succeda di continuo e non è una risonanza tra i pianeti per cui questa cosa succede in maniera ciclica, no, non succede assolutamente niente. Se non altro, avrebbero delle belle foto. E quindi, tornando a noi, il mistero di cui voglio parlarvi oggi riguarda un'altra scoperta. Perché abbiamo trovato questo piano del Sistema Solare che si chiama Eclittica e passa più o meno, potete immaginarlo appunto, sull'equatore del Sole, ma una recente pubblicazione ipotizza la presenza di un secondo piano dell'eclittica. Uno che finora non sapevamo fosse lì e che all'inizio è completamente vuoto, ma che si è popolato di comete nel tempo. E questo secondo piano dell'eclittica sarebbe un piano a 60 gradi inclinato rispetto a questo. Ed entrambi, sia quello che quello dei pianeti, sono inclinati a 60 gradi rispetto al piano della Via Lattea. Il motivo per cui questi due piani a X intorno al Sole si sono formati, secondo la pubblicazione, ha a che fare con le maree dovute alla Via Lattea. Quindi oggi voglio raccontarvi della scoperta dell'ipotesi di questo secondo piano dell'eclittica nel Sistema Solare. Un secondo piano, tra l'altro, che potrebbe essere popolato da comete che potrebbero minacciarci. Quindi è bene sapere che c'è. E se vi dicessi che il 2020 poteva andare ancora peggio rispetto a com'è andata? Ognuno di noi sono sicuro che avrà un sacco di idee riguardo a come poteva peggiorare. E in fondo manca ancora un po' di settimane fino alla fine dell'anno, quindi, ehi, perché sciuparci il finale, è giusto? Io, se dovessi ipotizzare, mi aspetterei Godzilla che esce fuori dal mare e a un certo punto lo vediamo, tipo, con delle banderine, festoni e, tipo, esulta felice, fa... Eccomi! Magari viene, che ne so, per festeggiare la fine delle Olimpiadi e scopre che non c'erano e si arrabbia, spacca tutto. Ma così la sarebbe in tema con il tono del resto del 2020, quindi me lo tengo per la fine dell'anno. Ma, tornando a noi, il 2020 ha avuto un momento, secondo me, che ha compensato per alcune cose di bellezza e di ispirazione e meraviglia. Cioè il passaggio della cometa Neowise nei cieli terrestri. Ed è stato davvero molto bello. Anzi, fatemi sapere sotto se siete anche riusciti a vederla a occhio nudo nel cielo terrestre. Ma quella cometa che noi vedevamo come un piccolo battuffolo di meraviglia, in realtà, poteva essere la morte e distruzione fine della vita, come la conosciamo, sulla Terra. Perché ha un diametro, il nucleo della cometa, di 5 km. Ed è passata a pochi milioni di anni, a pochi milioni di chilometri dalla Terra. Se fosse passata leggermente più vicina, se avesse colpito la Terra, avrebbe portato a un'estinzione di massa che avrebbe messo fine alla civiltà umana. E noi l'abbiamo scoperta a febbraio. A febbraio. Cioè, fino a febbraio noi non sapevamo di questa cometa. È una cometa a lungo periodo e, chissà, la vedremo magari ripassare qui tra migliaia e migliaia di anni. Se ripasserà. Quindi, ecco, là fuori, anche se per noi ora tutto quanto non potrebbe peggiorare, potrebbe esserci una cometa che noi non vediamo, perché sono colpi molto scuri e le notiamo soltanto quando si avvicinano al Sole. Quindi iniziano a perdere parte del ghiaccio che sublima via e crea quelle code. E quelle riusciamo a vederle, quindi le identifichiamo. Ma finché sono lontane e non hanno chiome e code intorno, non riusciamo a vederle bene, perché sono piccole e molto scure. Beh, quelle comete potrebbero essere già in viaggio verso la Terra e noi potremmo non saperlo. Per cui è molto importante riuscire a scoprire meglio l'origine delle comete. Quando gli astronomi vi parlano di ipotesi riguardo alle loro orbite, la loro origine, non pensate che sono cose noiose, perché sono cose che riguardano da vicino la nostra sopravvivenza futura. A meno che non vi sembri noioso un oggetto di chilometri che è diretto verso di noi. Ma chiedetelo a Tancredi qui, se secondo lui è noioso una cometa che può colpire la Terra. Ora, tornando alla nostra scoperta, perché è così importante? Perché noi pensiamo che le comete fondamentalmente arrivino da una nube chiamata nube di Oort, che circonda l'intero Sistema Solare. Ha una distanza che arriva fino a un anno luce, una zona molto esterna intorno al Sistema Solare. E ipotizziamo che sia così, perché quando abbiamo visto le orbite delle comete abbiamo notato che molte hanno orbite a lungo periodo, che sono paraboliche, arrivano verso l'interno da zone molto esterne a inclazioni molto diverse, passano vicino al Sole e poi se ne vanno e spesso hanno eccentricità così alte da essere appunto paraboliche e non torneranno mai più nel Sistema Solare. Ora, dato che stanno arrivando da tutte le direzioni, abbiamo ipotizzato che questi oggetti si sono formati nel Sistema Solare all'interno, ma poi quando i pianeti stavano migrando, quando interagivano gravitazionalmente con il disco accanto, questi pianeti hanno lanciato frammenti verso l'esterno e quindi, per esempio, parti di oggetti ghiacciati nelle vicinanze di Nettuno, Nettuno li ha lanciati all'interno del Sistema Solare. Sono finiti vicino a Giove e quando questi oggetti sono passati accanto a Giove, lui con la gravità li ha lanciati fuori a varie inclinazioni, formando questa nube di detriti che è rimasta in orbita intorno al Sole. E quando un oggetto magari passa nelle vicinanze, tipo un'altra stella o altro, influenza gravitazionalmente questa nube, qualche disturbo può capitare e quindi qualche cometa finisce verso l'interno ed è quella che noi vediamo come continuo arrivo di comete a lungo periodo. Ora, una delle problematiche con questo è come fai a distribuire le comete su questa nube e non solo. Una volta che sono arrivate lì, che cos'è che poi le disturba? Perché passaggi di stelle, ok, ma quelli non sono così continui e forse non bastano per spiegare il modo in cui sono distribuite. Poi c'è un'altra cosa strana. Negli anni, scoprendo sempre più comete, abbiamo scoperto che molte di loro hanno un afelio, cioè il punto più lontano dal Sole, della loro orbita, che è comune e ha la stessa inclinazione. Che è strano, giusto? Beh, c'è una ricercatrice giapponese di nome Arika Higuchi che è da anni, anni che lavora su come la gravità della Via Lattea influenza la nube di Orto. E nel 2007 aveva pubblicato una prima ricerca su questo, sull'influenza appunto dell'intero disco della Via Lattea sulle zone esterne del Sistema Solare. Ora, come sapete, il Sole è una stella che orbita dentro la Via Lattea, giusto, orbita intorno al centro. Ora, quando orbita, non pensate che orbita all'interno del piano perfettamente. In realtà si muove un po' come un'onda, quindi passa leggermente sopra e leggermente sotto il disco della Via Lattea, che a sua volta è pieno di pieghe. Quindi ci saranno dei momenti in cui è leggermente sopra la maggior parte delle stelle e poi leggermente sotto. Non tantissimo, ma comunque quanto basta per avere una differenza nell'influenza gravitazionale di tutto il resto del disco. E anche se questa influenza è minuscola, perché ovviamente le stelle sono molto molto lontane, comunque si fa sentire sul lungo periodo. E quindi questi continui passaggi possono cambiare delle cose, possono influenzare le orbite più lontane che sono appena appena legate alla gravità del Sole. Essendo così tanto lontane, come dicevo, fino a centinaia di migliaia di unità astronomiche o magari un anno luce, beh, in quel caso la gravità che li tiene ancorate al Sole è così bassa che basta un minimo di deviazione da parte della gravità del disco galattico da spingere verso l'interno. E c'è una cosa nuova però che è venuta fuori dalle nuove ricerche fatte da Arika. Cioè che in realtà c'è un punto di equilibrio che si forma grazie all'influenza gravitazionale del Sole e della Via Lattea su un secondo piano dell'eclittica. Quindi non c'è un solo piano dell'eclittica, ma ce n'è un altro. E questo secondo piano inizia come vuoto, e infatti lei nella pubblicazione lo chiama il piano vuoto dell'eclittica, o l'eclittica vuota, ma non è vuota del tutto, cioè inizia come vuota ma poi si riempie di oggetti che finiscono lì. E quando comete finiscono in quella zona riescono a rimanere popolare quella zona perché sono in equilibrio gravitazionale tra l'influenza del Sole e l'influenza del piano della galassia. Quindi questo ci potrebbe aiutare in futuro a scoprire da dove arrivano più probabilmente molte comete, quindi avere una zona di preferenza dove andare a cercarle per sapere in anticipo se arrivano e ci possono minacciare. Oltre a questo però sarà interessante verificare se questa cosa funziona anche in altri sistemi planetari perché cambia molto il modo in cui pensiamo agli equilibri sul lungo termine e a come si formano i pianeti. Quindi in questo caso il piano dell'eclittica dei pianeti si è formato qui perché qui c'era il disco appunto che ha formato tutta la materia. Le comete si sono formate qua dentro, quindi nel disco, se vi ricordate la pizza, del materiale intorno all'equatore della stella. Ma grazie all'influenza gravitazionale della Via Lattea c'era una seconda zona, un secondo piano dell'eclittica inclinato a 60 gradi rispetto al nostro ed entrambi come dicevo sono inclinati a 60 gradi rispetto al piano dell'eclittica. Beh, questi due dischi erano stabili sin dall'inizio e il secondo si è popolato grazie a comete che si sono formate qui dentro, poi sono state lanciate fuori e poi sono finite qui. E questo ci aiuterà molto, come dicevo, a capire come si evolvono sul lungo termine le comete e interi sistemi planetari. Non capita tutti i giorni di potervi dire che abbiamo scoperto un'intera nuova zona del sistema solare e il fatto che il sistema solare è a X con due piani dell'eclittica. Quindi questa penso sia una delle sorprese più grandi finora della sonomia di quest'anno almeno. E sì, ultima cosa che volevo dirvi è che oltre a essere interessante appunto perché forse qualche pianeta, cioè qualche cometa potrebbe minacciarci in futuro, è interessante anche perché abbiamo una missione che si chiama Comet Interceptor della ESA che verrà lanciata nella seconda metà di questo decennio con l'obiettivo di stare lì sull'attenti nel caso in cui passa una cometa. Stiamo cercando di monitorare varie comete che arrivano da molto lontano, ma anche oggetti interstellari che passano attraverso il sistema solare e se riusciamo a scoprire una in anticipo possiamo mandare la missione per intercettarla. Il problema di lanciare missioni verso oggetti come la cometa Neowise, per esempio, che abbiamo appena trovato è che ci vogliono anni per preparare e lanciare una missione. Per cui questi oggetti sono di passaggio molto rapidamente nel sistema solare interno quindi non ti danno il tempo di prepararti. L'abbiamo trovata a febbraio, Neowise, e a luglio era già vicino alla Terra. Per cui in realtà abbiamo pochissimo e non possiamo permetterci di aspettare il tempo necessario per lanciare una missione nuova. Per cui questa missione avrà il compito di andare lì e aspettare. Ho fatto un intero video riguardo a come è fatta Comet Interceptor e che è fatta di diverse sonde, non è una sola, e quindi se volete vederlo ve lo lascio sotto in descrizione. Per adesso è tutto, presto vi aggiornerò magari se ci sono altre novità perché questa cosa comunque stimolerà sicuramente la curiosità di altri astronomi che si metteranno alla prova per vedere con altre simulazioni quanto questi sistemi sono stabili sul lungo periodo e se per esempio in futuro potremo vedere cose simili in altri sistemi esoplanetari, cioè intorno ad altre stelle. Quindi ecco, vi faccio sapere come sta andando. Un abbraccio da parte mia, continuate a essere meravigliosi come sempre e se vi piacciono i video condivideteli con i vostri amici e anche con i vostri nemici e mi dirò, ah ah, ora vi faccio un dispetto, ti mando un lungo video sulla seconda eclitica del Sistema Solare e i vostri nemici diranno, oh no, no, basta, rinuncio, sei troppo forte per me. O qualcosa del genere. Io aspetto Godzilla nel frattempo. Ho la maglietta giusta con un gatto gigantesco che esce dall'oceano. Oh, a proposito di magliette, se vi piacciono, se volete qualche maglietta... Maglietta... Io ho la lingua italiana. Se volete qualche maglietta che porto nei video, sotto trovate un link a Pamplink dove trovate un codice sconto di 20% per tutte le magliette che vedete che porto nei video e molte altre. Quindi se volete scegliervi qualcuna, incluso calzini tra l'altro, trovate tutto sotto e avete il codice sconto che è ADRIANL4O. E trovate anche il link per Patreon e su Patreon potete beccarvi una patch. Sostenete il canale e avete anche la patch in stoffa che potete far aderire al vostro soffice soffice corpo o gatto. Ciao a tutti.